A marzo 2018 furono protagonisti di una rapina impropria consumata a San Ferdinando di Puglia in un parcheggio privato dove rubarono un'auto mentre il proprietario era sceso per aprire il garage lasciando le chiavi inserite nel quadro. Nella circostanza per fuggire aggredirono anche il custode dell'area. Dopo poco più di due anni i carabinieri della compagnia di Cerignola li hanno identificati facendo così scattare le manette. Si tratta di tre soggetti, un 34enne di San Ferdinando di Puglia, un 31enne ed un 29enne di Trinitapoli, tutti già noti alle forze dell'ordine. Il 2 marzo 2018 mentre il proprietario dell'auto si trovava all'interno del proprio garage ed aveva parcheggiato fuori la propria lancia delta con le chiavi inserite nel quadro di accensione fu avvicinato da una persona lui conosciuta che gli chiese delle informazioni. In quel frangente l'uomo si accorse che la sua auto era stata appena derubata e quindi gridò al custode del parcheggio di chiudere il cancello per impedire l'uscita di qualsiasi macchina. Il custode riuscì a chiudere ogni via di fuga ma i tre malviventi gli si avvicinarono subito con fare minaccioso. Uno di questi lo strattonò per impossessarsi delle chiavi del cancello e vista la resistenza del custode gli intimò di aprire subito il cancello dicendo che loro non c'entravano nulla. Dopodiché i tre si dileguarono a bordo dell'auto rubata e di una seconda vettura, una Fiat Punto. Le immediate indagini svolte dai carabinieri della stazione di San Ferdinando di Puglia sotto la direzione della procura della Repubblica di Foggia hanno consentito anche grazie all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti autori della rapina impropria. Su richiesta della locale procura della Repubblica il GIP del Tribunale di Foggia ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare alle arresti domiciliari nei confronti dei tre soggetti ora ristretti presso le proprie abitazioni.